Si è tenuto a pugnare nel centro congressi un convegno dal titolo referendum costituzionale le ragioni del sì e le ragioni del no a confronto, i possibili risvolti a livello regionale. L'interessante convegno che cade in un momento di forte dibattito nel paese è stata promossa ed organizzata un movimento un'altra pugnara con il patrocino del comune. L'idea è nata due o tre mesi fa intorno al periodo di luglio quando già si cominciavano ad intravedere e a formare i primi comitati per il sì e per il no. È chiaro che la tematica del referendum costituzionale, soprattutto oggi e nel periodo storico in cui viviamo, è una tematica importante che potrebbe segnare non di poco le sorti nostre. Ho accettato questo invito, come comune abbiamo dato il patruginio. Secondo me questa è la strada giusta, far capire alla gente che cosa si va a votare, se si vota sì che cosa succede, se si vota no che cosa altro succede. Obiettivo sicuramente raggiunto con la presenza del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e del Consigliere regionale Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle che hanno dato vita ad un interessante dibattito sulle ragioni del sì e quelle del no in vista di un profondo cambiamento dell'assetto politico ed amministrativo del paese. Ha moderato l'incontro Stefano Pallotta, Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Si tratta di capire con due personaggi importanti della politica regionale questa legge che riguarda almeno 40 articoli della Costituzione italiana, come dire uno degli interventi più consistenti dal dopoguerra oggi sulla nostra carta costituzionale. Siamo qui per il no, per invitare i cittadini e per convincere tutti i cittadini ad andare a votare il 4 dicembre e a votare no, perché la riforma non è quello che ci viene raccontata. In realtà i costi della politica non si abbassano se non minimamente, il Senato non si abolisce, le leggi non verranno approvate più velocemente, non garantirà una stabilità maggiore. Insomma ci raccontano tante favole in realtà, il governo Renzi e i padri costituenti Boschi, Renzi e Verdini, ma in realtà la Costituzione che abbiamo oggi gode ancora di buona salute ed è ancora il meglio che possiamo sperare. Quali sono le ragioni del sì? Non c'è una ragione specifica, ci sono tante ragioni, è un ammodernamento dello Stato, c'è un risparmio economico, c'è un osnellimento nell'approvazione delle leggi, ma c'è soprattutto dare voci ai cittadini, il Senato degli antiterritoriali vuol dire finalmente che i territori partecipano alla vita nazionale del nostro Paese. Mi pare che ci sono tanti punti che vengono toccati, ce n'è uno in particolare, finalmente si riforma il sistema del referendum dove c'è certezza della partecipazione popolare, insomma non c'è un motivo specifico. Certo questa è una riforma importante, che è moderna, che porta in avanti il nostro Paese.